It's hard to breathe, but that's all right Ciao tipo raga, benvenuti a questo nuovissimo video di Dormenso 06 Oggi siamo qua in un nuovissimo video sul calcio In collaborazione con Papa Cicca E puoi salutare, eh? E' Giulio Ok, allora, oggi siamo qua per fare insieme una crossbar challenge semplicissima Direi di non perdereci troppo in chiacchiere, andiamo Ok raga, inizio io 3 tiri per uno, poi si fa 2 giri in tanto tempo Vai Ah, di avanti Non perdiamo troppo tempo, si fanno 3 di tira Facca Zero Zero Mi scavano Ciao raga, ora prenderò un re Speriamo di rifarne almeno una traversa, però Ma ti viene fatto zero, sono a pari di Damiano, quindi va bene Falta ce l'ho fuori Sì, vai Sì 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 C'è Giulio Ok raga, secondo turno Sta di nuovo a me, spero di prenderne almeno una, tanto lo so che sarò sfigato come prima, quindi niente E' uno Speriamo di sicurare il bagnolo Ma che culo c'ha sto figliolo No, non ci credo Con olio Spero di fare meglio di Damiano Come il Papa starà a vedere E' un'altra Speriamo di prendere almeno una sedente, guarda Madonna E' una cicale E' una cicale Ok ragazzi, terzo e l'ultimo giro Spero Tanvera di superare Papa perché non si merita questa vittoria perché anche prima a FIFA ha preso non si può dire cosa E quindi andiamo Go, going Adio Father Aiuta la valanga Dai Mi sa che mi tocca fare due traversi ma si è un problema, anche a me oh tanto la fai easy questa ora è presa è presa è presa andiamo con la seconda vieni vieni ne manca una attenzione cerchiamo di prendere almeno una almeno tre se tu vuoi vincere si, più almeno il pezzo stacca 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 ok ragazzi questo video finisce qua il premio presentatore di oggi è Chica non ti faccio vedere quale poi secondo papa, terzo io e quattro come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciate un mi piace commentate con altri video qua sotto che vorreste vedere sul canale se è qui ti dice instagram se è qui ti dice instagram mi lascio il link in descrizione noi ci vediamo anche di Rosselli lo ringrazio per le riprese e noi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao